amici di spaziatec oggi vi faccio vedere come poter installare sui vostri dispositivi android il launcher di HTC 11 plus ovvero il nuovo top di gamma dell'azienda thawainese per farlo non dovete far altro che scaricare da link che trovate in descrizione la pick up relativa al launcher e tramite il file manager installarlo sul vostro dispositivo android e la pick up è compatibile con android nougat e android oreo sinceramente non l'ho provato su dispositivi con marshmallow magari potete provare e poi fatemi sapere insomma se è compatibile anche con android 6.0 anche se credo sia compatibile solo con le ultime versioni di android dopodiché basterà quindi cliccare sul tasto home del vostro dispositivo e scegliere così di utilizzare il launcher di HTC come poi potete vedere le novità rispetto al launcher che vi ho fatto vedere nell'episodio home screen dedicato all'assenza di HTC alla fine è molto simile non ci sono grandi novità anzi l'unica novità visibile è quella relativa alla home dove vicino al tasto sopra al tasto dell'op dove trovate anche una freccia mitigata dava dai launcher di Google pixel pixel 2 tramite il quale con uno swipe dal vasso verso lato potete andare direttamente nell'op drawer sinceramente credo che HTC abbia sbagliato a tenere anche il tasto dell'op drawer perché poteva tranquillamente rimuovere dato che alla fine non serve più a nulla e magari utilizzare quello spazio per avere un'altra applicazione in più nella doc per quanto riguarda l'app drawer ci sono sempre le solite possibilità come la dimensione della griglia e l'ordine con cui visualizzare le icone e le app sinceramente c'è sempre l'opzione di dei temi quindi potete apparire anche l'applicazione temi potete andare quindi tramite vostro accanto HTC oppure tramite facebook google plus a scaricare degli icon pack io per esempio ho scaricato uno relativo alla sense per rendere ovviamente il dispositivo molto più simile ad HTC però diciamo che le novità si fermano qui in più vi lascio anche un link in basso dove potete scaricare i wallpaper dedicati ad HTC 11 plus con il quale potete magari andare a personalizzare ancora di più di questo dispositivo e renderlo ancora più simile per questo video è tutto un saluto da Giuseppe per Spazio Hightech